Buongiorno a tutti e benvenuti da 4WD Italia. Questo è un CJ7 nel quale stiamo facendo un restauro completo. Chi ha visto i video precedenti si ricorda un po' degli interventi che abbiamo fatto. In questo momento, giusto per darvi un piccolo aggiornamento, stiamo lavorando sull'impianto elettrico che è ancora un po' in fase, abbiamo parecchio ancora da lavorare, comunque l'abbiamo impostato. Ci siamo accorti che comunque il cambio non è recuperabile, quindi interveremo sulla trasmissione e mano a mano andiamo avanti. L'ultimo pezzo sarà quello di sistemare la carrozzeria perché anche se sembra in ordine è stata fatta in maniera con badilati di stucco e quindi andremo a rifare un lavoro a regola d'arte. Mano a mano vi aggiorneremo, magari andate a guardare i video precedenti relativi a questa CJ e qualora avessi o intenzione di acquistare o hai già un CJ che ha bisogno di qualche intervento, sia di tipo conservativo o un vero e proprio restauro, sono a tua disposizione anche solo per dei consigli. Il sistema migliore per contattarmi e più rapido è quello di Whatsapp. Il mio ricapito Whatsapp è 338-7312-725. Alla prossima! Ciao! Ciao!